Questa è la casa che ci hanno affidato. Bene. Tu sei? Apri. Entriamo? Vediamo in cuore. Mi ha detto che hanno lasciato qui tutto. Eh, si vede. Se ne sono andati senza nulla praticamente. Eh vabbè, ci abitueremo. Ma quindi insomma è già tutto arredato, non dobbiamo portare nulla, solo le nostre cose. Ah sì, praticamente. E adesso sta per venire, cioè è ora di cena. Sarà una perdita d'acqua. Sì, molto felice. Sai dove è il contatore? Non lo so. Quello dell'acqua. No. Non conosciamo questa casa, quindi sarà qui da qualche parte però. Ecco, forse la... Forse. Sono specchio blu. Non conosciamo questa casa. Vieni, vieni, vieni qua, abbiamo trovato una stanza per fortuna, qua siamo lontani, allora cosa pensi di fare, dimmi, entriamo in una delle cellule, non lo so se è una buona idea, dopo ci trovo, ma è l'unico modo, se no arriva a prenderci, va bene dai, aprile una, Tu hai quella, io questa Grazie 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 Grazie